Desidera comunicare D'altra parte voi le prove di questo fatto le state avendo, seppure in maniera ancora molto rudimentale, attraverso le esperienze fatte con il registratore. In questi casi gli enti disincarnati si mettono su una frequenza percepibile dai vostri apparecchi, quindi questo dimostra che gli enti hanno la possibilità di accentuare o di diminuire la loro frequenza. Specialmente gli enti delle fasce più vicine a voi, perché hanno questo desiderio?